Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, qualità dell'aria, accordo comune-regione per la modifica temporanea della delibera sulla fascia verde. Le principali novità, posticipo a novembre 2024 dello stop ai diesel Euro 4. Restano in vigore i divieti già esistenti, ma anche in questo caso con alcune novità, in particolare via libera ai veicoli con alimentazione a GPL o benzina più GPL. Se non si potrà fare la modifica GPL al veicolo che rientra tra le categorie più inquinanti, sono comunque previste oltre 100 giornate di libero accesso o in alternativa il move-in, una sorta di telepass che permetterà anche alle vecchie auto di percorrere un tot di chilometri all'interno della fascia verde.